il sindacato articolo pubblicato sulle figaro il primo dicembre del 1897 contavo di scrivere per le figaro tutta una serie di articoli sul caso tra i fi l'intera campagna via via che gli avvenimenti si fossero svolti per caso durante una passeggiata ne avevo incontrato il direttore ferdinand erodei ci eravamo messi a discorrere accalorandoci proprio in mezzo ai passanti e da lì era nata bruscamente la mia decisione di offrirgli degli articoli avendolo sentito d'accordo con me mi trovavo così impegnato quasi senza volerlo aggiungo tuttavia che prima o poi ne avrei parlato perché tacere mi era impossibile non dimentichiamo con quale vigore le figaro cominciò e soprattutto finì per sposare la causa il concetto è noto ed è di una bassezza e di una stupidità semplicistica degne di quelli che l'hanno immaginato il capitano draife viene condannato da un tribunale militare per alto tradimento da quel momento diventa il traditore non più un uomo ma un'astrazione colui che incarna l'idea della patria sgozzata venduta al nemico vincitore non si tratta solo di tradimento presente e futuro rappresenta pure il tradimento passato perché a lui si ascrive l'antica sconfitta nell'ostinata convinzione che solo il tradimento abbia potuto far sì che fossimo battuti ecco quindi l'anima nera il personaggio abominevole la vergogna dell'esercito il bandito che vende i fratelli proprio come giuda ha venduto il suo dio e trattandosi di un ebreo è semplicissimo gli ebrei che sono ricchi e potenti e senza patria del resto lavoreranno sott'acqua con i milioni per toglierlo dai guai compreranno le coscienze e tesseranno attorno alla francia un complotto esecrabile pur di ottenere la riabilitazione del colpevole pronti a sostituirgli un innocente la famiglia del condannato anch'essa ebrea naturalmente entra nell'affare affare sì poiché è appeso d'oro che si tenterà di disonorare la giustizia di imporre la menzogna di sporcare un popolo con la più imprudente delle campagne il tutto per salvare un ebreo dall'infamia e sostituirlo con un cristiano insomma si crea quasi un consorzio finanziario vale a dire che alcuni banchieri si riuniscono mettono dei fondi in comune sfruttano la credulità pubblica da qualche parte c'è una cassa che paga per tutto il fango smosso c'è una vasta impresa tenebrosa uomini mascherati forti somme consegnate di notte sotto i ponti a degli sconosciuti ci sono già grandi personaggi da corrompere pagandone a prezzi folli l'antica onestà e a poco a poco questo sindacato si allarga finisce per essere un'organizzazione potente nell'ombra tutta una spudorata cospirazione per glorificare il traditore e per annegare la francia sotto una marea di ignominia esaminiamolo questo sindacato gli ebrei si sono arricchiti e sono loro a pagare l'onore dei complici profumatamente mio dio chissà quanto avranno già speso ma se sono arrivati appena una decina di milioni capisco benissimo che li abbiano sacrificati siamo di fronte a cittadini francesi nostri uguali e nostri fratelli che l'antisemitismo imbecille trascina quotidianamente nel fango si è tentato di schiacciarli per mezzo del capitano draifei del crimine di uno di loro si è cercato di fare il crimine di un'intera razza tutti i traditori tutti i venduti tutti da condannare e volete che gli stessi non protestino furiosamente non cerchino di discolparsi di restituire colpo su colpo in questa guerra di sterminio della quale sono oggetto va da sé naturalmente che si augurino con tutto il cuore di vedere risplendere l'innocenza del loro correligionario se la riabilitazione appare loro possibile chissà con quanto ardore si stanno impegnando per ottenerla ciò che mi lascia perplesso è che se esiste uno sportello dove si va a riscuotere non ci sia nel sindacato qualche autentico briccone vediamo un po' voi li conoscete bene come si spiega che il tale o il talaltro o talaltro ancora non lo siano è incredibile ma tutta la gente che si dice gli ebrei abbiano comprato gode di una solida reputazione di probità c'è forse un fondo di civetteria forse gli ebrei vogliono soltanto merce rara essendo disposti a pagarle io però dubito molto di questo sportello anche se sarei prontissimo a giustificare gli ebrei qualora portate all'esasperazione si difendessero con i loro milioni e non massacro ognuno si serve di quello che ha e parlo di loro con la massima tranquillità perché non li amo e non li odio non ho amici ebrei particolarmente vicini al mio cuore per me sono uomini e tanto basta ma per la famiglia del capitano drive è ben diverso e qui se qualcuno non comprendesse non si inchinasse sarebbe un cuore davvero arido sia ben chiaro tutto il suo oro tutto il suo sangue la famiglia ha il diritto e il dovere di offrirlo se crede innocente il suo rampollo quella è una soglia sacra che nessuno ha il diritto di insozzare in quella casa che piange dove c'è una moglie dei fratelli dei genitori in lutto ed obbligo entrare con il cappello in mano e soltanto gli zotici si permettono di parlare ad alta voce e mostrarsi insolenti il fratello del traditore è l'insulto che si getta in faccia a quel fratello sotto quale morale sotto quale dio viviamo mi chiedo perché ciò sia possibile perché la colpa di uno dei componenti venga rimproverata a tutta la famiglia non c'è niente di più vile di più indegno della nostra cultura della nostra generosità i giornali che ingiuriano il fratello del capitano draifi solo perché ha fatto il suo dovere sono un'onta per la stampa francese e chi mai doveva parlare se non lui è compito suo quando la sua voce si è elevata a chiedere giustizia nessuno più aveva il diritto di intervenire si sono fatti tutti da parte solo lui aveva la veste per sollevare la spinosa questione di un possibile errore giudiziario della verità su cui far luce una verità lampante a non bello accumulare ingiurie nessuno potrà oscurare il concetto che la difesa dell'assente l'hanno in mano quelli del suo sangue che hanno conservato la speranza e la fede e la prova morale più forte in favore dell'innocenza del condannato è proprio la convinzione incrollabile di un'intera e onorata famiglia di una probità e di un patriottismo senza macchia poi dopo gli ebrai fondatori dopo la famiglia che ne è a capo vengono i semplici membri del sindacato quelli che si sono fatti comprare tra i due pianziani sono bernard lazare e il comandante forzinetti in seguito sono venuti schreuer kestner e mond ultimamente si è scoperto il colonnello picard senza contare le bloa e spero bene dopo il mio primo articolo di far parte pure io della banda del resto appartiene al sindacato viene tacciato di essere un malfattore di essere stato pagato chiunque ossessionato dalla ghiacciante brivido di un possibile errore giudiziario si permetta di volere che sia fatta verità in nome della giustizia siete stati voi a volerlo a crearlo questo sindacato voi tutti che contribuite a questo spaventoso caos voi falsi patrioti antisemiti sbraitanti semplici sfruttatori della pubblica sconfitta la prova non è forse completa di una luminosità solare se ci fosse stato un sindacato ci sarebbe stata un'intesa e dov'è l'intesa è semplicemente nato in alcune coscienze all'indomani della condanna un senso di malessere un dubbio di fronte all'infelice che grida a tutti la sua innocenza la crisi terribile la pubblica follia alla quale assistiamo è sicuramente partita da lì dal lieve brivido rimasto negli animi ed è il comandante forzinetti l'uomo di quel brivido che tanti altri hanno provato quello che ce ne ha fatto un racconto così cocente poi c'è bernard lazar preso dal dubbio lavora a far luce la sua inchiesta solitaria si svolge però in mezzo a tenebre che gli è impossibile diradare pubblica un opuscolo ne fa uscire un secondo alla vigilia delle sue rivelazioni di oggi e la prova che lavora da solo che non ha relazione con nessun altro membro del sindacato e che non ha saputo non ha potuto dire niente della verità vera un sindacato proprio strano i cui membri si ignorano poi c'è schoierer kessner a sua volta torturato dal bisogno di verità e di giustizia e che cerca tenta di arrivare a una certezza senza sapere niente dell'inchiesta ufficiale ufficiale dico che contemporaneamente veniva svolta dal colonnello picard messo sulla buona strada dalle sue stesse funzioni presso il ministro della guerra c'è voluto un caso un incontro come si saprà in seguito perché i due uomini che non si conoscevano che lavoravano ognuno per conto proprio alla stessa opera finissero all'ultimo momento per raggiungersi e procedere fianco a fianco la storia del sindacato è tutta qui uomini di buona volontà di verità e di equità partiti dai quattro punti cardinali senza conoscersi e lavorando a leghe di distanza ma incamminati tutti verso uno stesso fine procedendo in silenzio esplorando il terreno e convergendo tutti un bel mattino verso lo stesso punto d'arrivo come era inevitabile si sono trovati tutti e presi per mano a quella crocevia della verità a quel fatale appuntamento della giustizia come vedete siete voi che ora li riunite li costringete a serrare i ranghi per dedicarsi a un medesimo sforzo sano e onesto questi uomini che voi coprite di insulti che accusate del più nero complotto quando miravano unicamente a un'opera di suprema riparazione 10 20 giornali ai quali si mescolano le passioni e gli interessi più diversi una stampa ignobile che non posso leggere senza che mi si spezzi il cuore per lo sdegno non ha cessato come dicevo di convincere il pubblico che un sindacato di ebrei fosse impegnato nel più esecrabile dei complotti acquistando le coscienze a peso d'oro lo scopo era in un primo momento quello di salvare il traditore di sostituirlo con un innocente poi quello di disonorare l'esercito di vendere la francia come nel 1870 sorvolo sui romanzeschi particolari nella tenebrosa macchinazione e questa opinione lo riconosco è diventata quella della grande maggioranza del pubblico quante persone ingenue mi hanno avvicinato in questi otto giorni per dirmi con aria stupefatta come dite che schroyer kestner non è un bandito e anche voi vi mettete con quella gentaglia ma non lo sapete che hanno venduto la francia il cuore mi si stringe per l'angoscia perché so bene che una simile perversione dell'opinione pubblica rende molto facile imbrogliare le carte e il peggio è che i coraggiosi sono rari quando c'è da andare controcorrente quanti ti mormorano all'orecchio di essere convinti dell'innocenza del capitano dreyfi ma che non se la sentono di assumere un atteggiamento pericoloso nella mischia dietro l'opinione pubblica sulla quale contano naturalmente di potersi appoggiare ci sono gli uffici del ministro della guerra non voglio parlarne oggi perché ancora spero che giustizia sia fatta ma chi non si rende conto che siamo di fronte alla cattiva volontà più cocciuta non si vuole riconoscere di aver commesso degli errori e vorrei dire delle colpe chi si ostina a coprire i personaggi compromessi e si è pronti a tutto pur di evitare il tremendo repulisti e la cosa è talmente grave che gli stessi che hanno in mano la verità dai quali si esige furiosamente che la dicono esitano aspettano a gridarla pubblicamente nella speranza che la stessa si imponga da sé e che venga loro risparmiato il dolore di doverla dire ma è pur sempre una verità quella che da oggi io vorrei diffondere in tutta la francia ossia che si è sul punto di farle commettere a lei che è la giusta la generosa un autentico crimine non è più la francia dunque perché si possa ingannarla a tal punto aizzarla contro un infelice che da tre anni e spia in condizioni atroci un crimine che non ha commesso sì esiste laggiù in un'isola sperduta sotto un sole spietato un essere che è stato separato dai suoi simili e non solo il mare lo isola ma undici guardiani che lo circondano notte e giorno come una muraglia vivente undici uomini sono stati immobilizzati per sorvegliarne uno solo mai assassino ma il pazzo furioso è stato murato in modo così totale e l'eterno silenzio e la lenta agonia sotto l'esecrazione di una nazione intera osereste dire ora che quest'uomo non è colpevole ebbene è proprio quello che affermiamo noi gli appartenenti al sindacato e lo diciamo alla franza e ci auguriamo che prima o poi ci ascolti perché sempre essa si infervora per le cause giuste e belle lo diciamo noi che vogliamo l'onore dell'esercito la grandezza della nazione ha stato commesso un errore giudiziario e finché non sarà riparato la francia soffrirà malaticcia come per un cancro segreto che corrode a poco a poco le armi e se per farlo a ritornare sana è necessario ricorrere al bisturi si faccia un sindacato per agire sull'opinione pubblica per guarirla dalla demenza in cui l'ha gettata certa ignobile stampa per riportarla alla sua fierezza alla sua secolare generosità un sindacato per ripetere ogni mattina che le nostre relazioni diplomatiche non sono in gioco che l'onore dell'esercito non è affatto in causa che solo alcune individualità possono essere compromesse un sindacato per dimostrare che qualsiasi errore giudiziario è riparabile e che perseverare in un errore del genere con il pretesto che un consiglio di guerra non può sbagliarsi è la più mostruosa delle ostinazioni la più spaventosa delle infallibilità un sindacato per condurre una campagna fino a che verità sia detta fino a che giustizia sia resa al di là di tutti gli ostacoli quando anche occorressero ancora anni di lotta sì di questo sindacato faccio parte anch'io e spero tanto che voglia farne parte tutta la brava gente di francia